Giorno a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene e benvenuti in questo nuovo video di Nerd Show Movita Oggi andiamo a fare la reaction al trailer, al teaser trailer di Secret Invasion Scusate se non ho portato la reaction né di Secret Invasion, né di Secret Invasion, né di Werewolf by Night Ma, non ce l'ho fatta, non è vero, sono un pigrone cronico e non l'ho portata Quindi oggi, che è lunedì, usciranno mi sa tre video, tre video, sì E quindi, niente, iniziamo subito con la reaction Tra l'altro, io il trailer l'ho già visto, quindi in realtà so cosa succede, però Devo ronire anche alla playlist quella fase 4 della missione, anche se questa è della fase 5, quindi dovrò creare una nuova playlist E chissà perché Era nello spazio, come fa a chiamarli? Sì, ecco, stavolta è diverso Ok, tra l'altro ha un occhio Grande War Machine Poi ci devono fare... Prima volevamo farci la serie TV E adesso mi sa che l'hanno ufficializzato come film Dobbiamo stare molto attenti adesso Molto attenti dobbiamo stare Ah, sono tutti scroll quelli Sono tutti scroll Non sei nelle condizioni di affrontare... Sta qui mi sa che l'ha cattivo È solamente l'inizio Questa è la mia guerra Solo mia Solo sua Sono l'ultima persona che rimane fra loro No Facciamo parire dopo Scroo Mi muovo la bandana E cosa vogliono? Cosa vogliono? Secret Invade Invasione segreta Il logo non è che mi piaccia tanto Ma forse lo cambieranno come avevano fatto per show Disney Plus E... e nada Non... non è che l'aspetto così tanto Ma tra l'altro sapete di cosa mi sono accorto Cioè... questo qui è un dettaglio Io che vi voglio far vedere Io prima di scoprire che sarebbe uscita La serie di Secret Invasion Io ho lo sfondo del computer Che è Secret Invasion però con la fumetti Ok, con tutti gli scopi Adesso ve lo faccio vedere Non so quanto si vede nella realtà Vabbè C'è tutta la battaglia con gli Skrull E gli Avengers Quindi... C'ho lo sfondo di Secret Invasion Senza sapere che era di Secret Invasion Che bello E... niente ragazzi Spero che il video vi sia interessato Con le mie belle recensioni da pirla E lasciate like Scrivetevi al canale se ancora non l'avete fatta E andate a vedere l'altro video che è uscito oggi sul canale O gli altri due video Non so quanti video usciranno oggi Quindi andateli comunque a vedere Perché è importante dare un contributo al canale Perché come è mio è anche vostro se lo seguite Scusate per la luce Ok E niente Noi ci robichiamo a un prossimo video Bye nerd Quando vi ricapita di rivedere due video Reaction in un solo giorno Di due prodotti Marvel Quindi andate subito a vedere anche l'altro Dai forza Dai schiaccia questo qui E vai E vai Dai Grazie a tutti.